La base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video. Trova il tuo genere preferito cliccando su Playlist. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Puoi richiedere qualsiasi tipo di arrangiamento. Ricorda che la qualità delle basi che ti invierò è molto superiore a questa demo. Clicca sulla parola altro sotto al titolo per ascoltare le altre versioni di questo brano. Suntun bassi Suntun bassi Suntun bassi Richiedi la base in alta definizione e senza interruzioni al numero a destra nel video.